Deciso, obbediente a mettersi in cammino, accettando la volontà del Padre e procedendo verso la croce con pazienza. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando il passo del Vangelo nel quale si avvicina la passione del Signore. Da un lato la paura e l'incomprensione dei discepoli davanti alla decisione di Gesù di andare a Gerusalemme e dall'altra la sua grande solitudine perché, ha detto il Papa, nessuno capiva il mistero. Da qui l'invito di Francesco ad immaginare il cammino di Gesù da solo verso la croce, il suo coraggio, la sua obbedienza e il suo grande amore per noi. Quante volte io cerco di fare tante cose e non guardo te, che hai fatto questo per me, che sei entrato in pazienza. L'uomo paziente, Dio paziente, che con tanta pazienza tu tolleri i miei peccati, i miei fallimenti. E parlare con Gesù così, lui è deciso sempre di andare avanti, di dare la faccia e ringraziarlo. Prendiamoci oggi un po' di tempo, pochi minuti, cinque, dieci, quindici, davanti al croce fisso, forse o con immaginazione, vedendo Gesù camminare decisamente verso Gerusalemme e chiedere la grazia di avere il coraggio di seguirlo da vicino. Grazie.